Non è particolarmente rassicurante, non sembra una buonissima premessa. Da questo punto di vista ha fatto benissimo Giorgia Meloni a chiudere i confini con la Slovenia rendendo la nostra rete più fitta di controllo. Ma devo dire, avete fatto benissimo voi a costruire così il Tg, perché non c'è una guerra sola là. C'è l'altro lato della guerra qua ed è giusto averli in mente insieme. Due settimane fa, 12 giorni fa, da Al Jazeera, uno dei capi di Hamas ha fatto un appello alla Jihad globale. Cioè Hamas, mentre stermina di là, dice ai suoi, ai terroristi, fate strage anche nelle capitali europee. Allora noi dobbiamo chiudere a Est, bene, ma tenere d'occhio tutto il resto. E stanno cascando tutte le bugie della sinistra. Ti ricordi quando dicevano, ma figurati se arrivano dal barcone. E dal barcone è arrivato quello di Bruxelles. 2015, primo ministro tonisino, abbiamo raccontato proprio ieri, l'appello all'Europa. Figurati se i richiedenti asilo e i richiedenti asilo. Io rilancio qui la mia proposta. Tutti quelli che sono segnalati come radicalizzati vanno espulsi subito. Non li dobbiamo tenere neanche un minuto di più qua. Bertolini, generale, qual è il pericolo? Che se...